Si è tenuto la scorsa settimana presso il Golf Club Mare di Roma il finissage della collettiva d'arte Winter Art 2016 di Ting. L'Associazione Artistica e Culturale di Intrattenimento di Ardea ha premiato gli artisti locali che hanno esposto opere di svariate tipologie, dalla pittura alla fotografia, soddisfatta della buona riuscita dell'evento Loana Sorbo, responsabile marketing della struttura golfistica di Ardea. Abbiamo visto che è un bellissimo connubio, arte e golf, abbiamo visto che ha molta presa sul pubblico e anzi colgo l'occasione per informarvi di un nuovo progetto estivo che partirà sempre con l'Associazione Ting, sempre ospite qui al Golf Club Mare di Roma. Sono delle bellissime opere d'arte, ci stiamo affezionando agli artisti, a Stefania Carrano che è l'organizzatore ed è bravissima, per cui vi aspettiamo anche quest'estate per la nuova mostra che avremo ospite qui al golf. Stefania Carrano, vicepresidente di Ting, ha ribadito la volontà della sua associazione di promuovere l'arte rendendola fruibile a tutti, anche a quelle persone che la apprezzano ma la vedono lontana, ad essere pregnata con una targa consegnata dal Golf Club, un'opera in particolare tra quelle esposte, che più di tutte ha emozionato la direzione. Il golf per queste manifestazioni che indirrà donerà sempre una targa al quadro che più emoziona la direzione del golf. Oggi ha vinto Monica Zavatta portando uno stallone nero sulla spiaggia che ha richiamato la location del golf. Questa sinergia tra golf e arte è destinata a crescere e anche nel prossimo anno sono previsti appuntamenti sulla scia di questo Winter Art 2016. Sono molto soddisfatta, abbiamo il 50% degli artisti che hanno messo in mostra le loro opere, sono artisti che a noi erano sconosciuti, sono tutti artisti di pregio, e anche soddisfatta per il fatto dei riconoscimenti che ci ha dato il golf, perché in merito a queste manifestazioni che noi abbiamo fatto con loro, ci hanno riconosciuto due appuntamenti fissi l'anno, con date da stabilire, per noi questo è un grossissimo risultato. Stefania Carrano ha poi parlato dei prossimi appuntamenti di Ting, tante le novità che nel corso del 2017 saranno proposte sul territorio di Ardea e dintorni. Come ho appena detto agli artisti ci sono già nuovi appuntamenti, il prossimo sarà al ristorante La Fonte dal 12 di febbraio al 12 di marzo, poi ci sarà un itinerante a Roma, insomma ci stiamo muovendo, ci stiamo organizzando per portare proprio in giro l'arte in senso vero della parola. Grazie.